E allora buonasera a tutti di nuovo a SportMDF Channel, Focazzi termina la grande partita, la classica, Olanda-Germania, l'Olanda porta a casa i tre punti e qui abbiamo due portieroni, Mirko e il grande Luga. Mirko, com'è andata? È stata una bella partita, molto tirata, il primo tempo, i primi dieci minuti, comunque stanno vincendo 2 a 0 e poi a fine sono un po' calati e quindi ne abbiamo approfittato pagando i roll che ci hanno portato a Vittorio. Quindi la spunta a lunga l'Olanda, un ottimo giro di palla, grandi però movimenti dei vostri attaccanti. Luga, com'è andata? Abbiamo partito bene, 2 a 0 per noi, poi abbiamo fatto un blackout, il giro palla di Olanda e ne apriamo anzi. Quindi l'Olanda di Cruyff, vatta a Germania di Black & Ball. Beh, grandissimo, quindi proiezione World Cup 2014, un saluto a tutti, buonanotte, sono Passione.